Vi siete mai chiesti che fine hanno fatto i vostri beniamini di I Cesaroni dopo l'ultimo ciak? Magari mentre spogliavate vecchie foto o ritagli di giornale che li ritraggono nei momenti di gloria? Preparatevi a un viaggio emozionante tra passato e presente, dove scopriremo insieme i percorsi inaspettati di stelle che hanno illuminato il piccolo schermo. L'eco della nostalgia ci avvolge quando pensiamo ai personaggi che hanno segnato un'era televisiva, lasciandoci con il desiderio di sapere di più sul loro dopo. Con ogni storia che riveleremo, sentirete la sorpresa e l'emozione crescere, riscoprendo volti amati e scoprendo destini che mai avreste immaginato. Il contenuto di questo video è essenziale per tutti coloro che hanno seguito i Cesaroni, vivendo le avventure e le disavventure di Giulio, Marco, Eva e compagnia. È anche per chi ama la televisione italiana e desidera approfondire cosa accade quando le telecamere si spengono. Parliamo in modo diretto e coinvolgente, perché queste storie non sono solo gossip, ma frammenti di vita che ci collegano tutti attraverso il filo della memoria comune. Non dimenticate di lasciare un like se anche voi sentite la nostalgia, commentate con il personaggio di cui vorreste sapere di più, e iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un episodio di questa straordinaria riscoperta. Per quasi un decennio, i Cesaroni ha tenuto incollati allo schermo un'intera generazione di telespettatori, diffondendosi attraverso i canali Mediaset e catturando l'attenzione di famiglie intere contra me ricche di amori, passioni, sofferenze e commiati. Anni dopo l'ultima trasmissione, emerge una questione inevitabile per chi, come noi, lavora in questo settore, che fine hanno fatto i protagonisti di i Cesaroni? Trasmessa dal 7 settembre 2006 al 19 novembre 2014, la serie si è conclusa con la sesta stagione a causa dei deludenti riscontri delle ultime due stagioni, che secondo i produttori mancavano di una trama veramente originale. I Cesaroni, adattamento italiano della serie spagnola Los Serranos che si è conclusa nel 2008 dopo otto stagioni su Telecinco, hanno sofferto di una perdita di contenuti nelle fasi finali della serie. Ma, focalizziamoci sui personaggi principali, da Marco ed Eva a Alice e Rudy, senza dimenticare Mimmo, Giulio, Lucia, Walter, Ezio, Cesare e molti altri. Esploreremo la vita post-serie di alcuni di questi personaggi, cercando di soddisfare la curiosità di tutti i fan di questa storica serie televisiva ambientata a Garbatella. Iniziamo con una curiosità. L'attrice che interpretava la madre di Lucia, suocera di Giulio, era Rita Savagnone, moglie di Ferruccio Amendola fino al 1971 e madre di Claudio Amendola, che nella serie vestiva i panni di Giulio Cesaroni. Sorpresi? Ora, possiamo procedere con la nostra analisi. Cesare Cesaroni, interpretato da Antonello Fassari, è il fratello di Giulio e ha rappresentato un pilastro comico della serie. Le risate in i Cesaroni erano un merito condiviso principalmente dalla coppia Cesare-Ezio, senza i quali la serie non sarebbe stata la stessa. Antonello Fassari, già noto prima di unirsi al cast, ha continuato a lavorare nell'industria cinematografica partecipando a film come Le ragioni della ragosta di Sabina Guzzanti. Box Office 3D, Suburra, 2015, e più recentemente in Non ci resta che il crimine e burraco fatale. Mentre per quanto riguarda la televisione possiamo rivederlo nella nuova serie targata Sky, speravo De morì prima. Curiosi di scoprire dove sono finiti gli altri attori della serie? Continuate a guardare e scopritelo. Iscrivetevi al canale e mettete un like al video. Ezio Masetti, interpretato da Max Tortora, è un altro pezzo forte del duo comico di Cesaroni. Nel ruolo del meccanico pigro del quartiere, ha offerto una generosa dose di umorismo alla serie. Max Tortora ha avuto una carriera brillante dopo la serie, passando da comico ha affermato attore cinematografico. Ha partecipato a numerosi film di grande successo, collaborato con i fratelli Vanzina e sarà presto nel nuovo film di Carlo Verdone, Si vive una volta sola. Tortora ha mantenuto il suo spirito comico anche in radio su Rai Radio 2 e in programmi TV come Baby e Tutta colpa di Freud. Elena Sofia Ricci, nei panni di Lucia Liguori, si è distinta come una delle attrici più capaci e riconosciute del cast. Oltre ai suoi ruoli pre-Cesaroni, dal 2011 interpreta Suor Angela nella popolarissima serie Che Dio ci aiuti, che ha ottenuto ascolti eccezionali. Ha vinto un premio come migliore attrice non protagonista al Festival di Venezia con Allacciate le cinture di Fersano Ospetec nel 2014 e nel 2018, ha ricevuto un nastro d'argento e il David Di Donatello per la migliore attrice protagonista nel film su Silvio Bernusconi. Di recente, nel 2020, è tornata in televisione con il film Rita Levi Montalcini. Claudio Amendola, che ha interpretato Giulio Cesaroni, ha rapidamente espanso la sua carriera nel mondo del cinema. Ha debuttato come regista nel 2014 con La mossa del pinguino, una commedia con Edoardo Leo e Antonello Fassari. Nel 2015 è tornato alla recitazione con Suburra e nel 2017 è passato di nuovo dietro la macchina da presa con il permesso, 48 ore fuori. Di cui è anche protagonista. Nel 2018 ha esplorato nuovamente la televisione con il ruolo del detective Carlo Guerrieri in nero a metà e nel 2020 ha diretto il film Cassamortari. Rimasti sorpresi dalla svolta di Ezio? Non perdete il prossimo segmento per più dettagli sui vostri preferiti di Cesaroni. Walter Masetti, interpretato da Ludovico Fremont, è stato uno dei personaggi più complessi e in evoluzione di Cesaroni, spesso sottovalutato dal pubblico. Dopo la conclusione della serie, Ludovico si è dedicato principalmente al teatro. Ha debuttato come protagonista nel 2015 nello spettacolo Uomini senza donne e nello stesso hanno esordito come regista con il film The Answer, La risposta Sei tu. Dal 2019 è impegnato nella turne teatrale con le produzioni Per favore non uccidete Cenerentola e Shakespeare in Dream. Anche se si è allontanato dalla televisione, Ludovico è recentemente apparso su piattaforme social come Instagram e TikTok. Rudy Cesaroni, interpretato da Niccolò Centioni, ha avuto forse il percorso più unico e sorprendente posti Cesaroni. Ancora durante la serie, ha partecipato a Pechino Express con Micolo Livieri, che interpretava sua sorella Alice nella serie. Nel 2015, ha tentato il talent show notti sul ghiaccio su Rai 1, venendo eliminato nella prima puntata. La sua vita ha preso una svolta inaspettata quando, nel novembre 2018, ha rivelato di vivere a Londra e lavorare come lavapiatti. Una scelta di vita decisamente insolita e affascinante. Alice Cudicini, il personaggio di Micolo Livieri, si è concentrata sulla vita familiare dopo il termine della serie. A parte l'esperienza con Pechino Express, le sue apparizioni come attrice si sono limitate al 2015, quando ha lanciato la SECOM una famiglia normale insieme al suo manager, dove lei e suo marito raccontano la loro vita quotidiana attraverso sketch comici. Oggi, Micolo è una mamma contenta e impegnata tra i social media e le attività di e-commerce. Mimmo Cesaroni, interpretato da Federico Russo, il più giovane della famiglia Cesaroni, ha proseguito con successo nel mondo dello spettacolo. Dopo i Cesaroni, Federico ha intrapreso una carriera variegata che comprende recitazione e canto. Dal 2015, ha collaborato con Disney Channel e Walt Disney Records, partecipando come attore nella serie Alex & Co. e come cantante nel brano We Are One. Nel 2016, ha recitato nella serie scomparsa per Rai e l'anno successivo si è unito al cast di Don Matteo, interpretando il personaggio di Seba nella undicesima stagione. Nel 2020, è apparso in due produzioni significative, la serie di Netflix Curon, nel ruolo di Mauro, e nel film Ernesto diretto da Alice De Luca e Giacomo Raffaelli. La sua carriera ha mostrato una notevole evoluzione, superando le critiche e affermandosi nel panorama televisivo e cinematografico. Marco Cesaroni, il personaggio di Matteo Branciamore, non ha avuto un percorso altrettanto chiaro posti Cesaroni. Nonostante non sia scomparso del tutto dalla scena, la sua presenza è stata più sporadica. Nel 2017 ha partecipato alla sitcom Love Snack e ha recitato in alcuni film tra cui My Father Jack, 2016, Il mondo di mezzo, 2017, e anche Senza di te, 2018. Nonostante non emerga molto nel campo visivo dal 2018, nel mondo della musica ha prodotto cinque album, anche se è principalmente noto per le canzoni della colonna sonora di Cesaroni. Pronti per scoprire il successo straordinario di Eva Posti Cesaroni? Restate sintonizzati per la conclusione emozionante. Eva Cudicini, interpretata da Alessandra Mastronardi, si distingue come la più brillante uscita dal cast di Cesaroni. Alessandra ha costruito una carriera impressionante sia in televisione che nel cinema, distinguendosi per il suo talento e per i risultati conseguiti. La sua traiettoria professionale è stata costellata da importanti successi, confermando il suo status di attrice di spicco nel panorama artistico italiano. Dopo il termine di Cesaroni, Alessandra Mastronardi ha proseguito con una carriera televisiva e cinematografica di grande successo. In televisione, ha partecipato a serie di rilievo come la seconda stagione di Master of None, che nonostante sia stata considerata leggermente inferiore alla prima. Ha continuato a riscuotere interesse critico. Ha inoltre avuto un ruolo significativo in I Medici e ha fatto parte del cast di Romanzo Criminale, apparendo in ben 14 episodi. Un contributo che ha arricchito ulteriormente la sua carriera. Curiosamente, manca solo la sua partecipazione in Boris, chissà, forse. Sul fronte cinematografico, Alessandra non ha perso occasione di brillare. Ha debuttato a livello internazionale con Jerome with Love di Woody Allen nel 2012, per poi tornare al cinema italiano con titoli come Ogni maledetto Natale, 2014, e L'Agenzia dei Bugiardi, 2019. Prossimamente, la vedremo in The Unbearable Weight of Mass of Talent, diretto da Tom Gomekin, 2021, e in La donna per me nel 2022. La carriera di Alessandra Mastronardi è senza dubbio ricca di successi e si prevede un futuro altrettanto promettente per l'attrice. E ora, mentre il sipario si chiude su questa incredibile rivelazione dei percorsi che i nostri amati personaggi di Cesaroni hanno intrapreso, vi lasciamo con una domanda. Quale di queste storie vi ha colpito di più e perché? La nostalgia, il cambiamento e le sorprese ci ricordano che ogni fine è solo un nuovo inizio. Fateci sapere nei commenti la vostra opinione e quale altro personaggio vorreste rivedere sotto i riflettori. La memoria ci lega, ma sono le storie che continuiamo a raccontare che ci definiscono.